Come dico sempre ai concerti, quando vi andasse di cantare, fatelo proprio con assoluta libertà, anche quelli ben intonati, ecco, anche imprudenzialmente, ma perché a volte quando dico questa cosa poi sento veramente, anzi si sentono delle cose terrificanti, cioè, ma davvero a livello di dolore fisico? Però, poi mi dicono, l'hai voluto, l'hai chiesto tu, perché tutti cantano, secondo me, e quelli meno intonati qua sono cantati un pochino da piano, sono vicino, è un gioco, è una minchiata, come se dice la riuscita. Va bene, questa è una canzone che potrebbe già essere così, una sorta di piccolo test per vedere, se avete voglia di cantare, in quanti siete intonati, in quanti no. Va bene, ve lo faccio sentire. Grazie. 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 Se sta bene, dove va bene, non ne ti parlo ancora Quando scoprirò che non mi era una carezza di piazza E mi ricordo che ti tremmo quando hai mai Edo ma è stato tico che non mi ha tivato E tu ne ti parlo ancora E di che più non è cambiato E di che non mi era una carezza di piazza E di che non mi era una carezza di piazza E di che non mi era una carezza di piazza E di che quanto mim era una carezza di piazza E di che non mi era una casa con confetto E di che non t'indessutto E di ogni là che sia moltoain passado E di che non mi era una tANI Qui non mi era comunque Ave保 a served per la primaər legislature e ti riporto ancora giù e mica tu non hai cambiato niente e allora chissà se parli ancora parli per gli altri ma se ti colore davanti se ti colore davanti se ti colore davanti in una del per un montaggio e ti colore davanti e cheButti stai viene in una memoria e Deputy Sta ah bebe ними tutte le stai Grazie per la visione!